Tanto per la terza serie duecento rana Silvia Comperini in due, Sharon Russo in tre, Irene Cerchiaro in quattro, Laura Mazzotta in cinque, Martina Pizzamiglio in sei, Anna Voltan in sette. Testa a testa con Manuel Frigo in corsia tre, Gianluca Gazzola in quattro, il primato junior di Stefano Graffa, ventisei e trentotto, Gazzola ventisei e cinquantasette, conquista la terza medaglia d'oro, Manuel Frigo ventisei sessantacinque, Filippo Masiero ventisette e tredici.